Noi abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con tutte e non sono contenti, godo, caro Leglio, godo. Cos'è cambiato in questa settimana da Udine a oggi? La squadra completamente rindigorita? Ci saranno resi una spirita. Che vuol dire rindigorita? Si è decisamente più presente a se stessa, anche con i cambi, Saponara, Suter, prima di essere poi in Italia. Beh, ma io penso che su quattro anni faccio calcio non capisco niente di calcio, però sono un attento spettatore. Le prime partite non fanno mai giudicate, voglio dire, se poi ce ne stanno 38, la corsa è lunga e noi dobbiamo soltanto essere sempre in gara. Presidente, con l'abbraccio con Mijajovic. Perché amo Mijajovic, siamo amici, è stato il mio primo grand'amore, adesso mi dispiace, l'ho tradito con il grande Giampaolo. Mi ha visto? È un professore, eh? Tic e tac, che tic e tac, che gli ha messo nel posticino d'amore ci sarà. Però non tradirà più nessuno adesso. Non tradirà più nessuno, hai imparato la lezione. Non tradisco? Tradito Giamajovic, non tradirà più Giampaolo. Sono un fedico. Presidente, l'attivo per il gol di Pagliaia. Ma non c'è l'aggettivo, quelle sono cose che sono un campione come Fabio può fare. All'uscita si è arrabbiato perché l'ho sfortunato un po', io ho detto che si è arrivato. Ah, io sono fortissimo, ho detto ciò lo so, non ti arrabbiare. Presidente, si è sbloccato anche questo De Frel, un commento su questo giocatore. De Frel non è stato mai bloccato. De Frel è un grande calciatore e io lo amo, lo inseguo da, pensate, dal Parma, dall'inizio della mia storia calcistica che inseguo De Frel. Ho fatto una scommessa che De Frel ci farà proprio divertire perché fa 15 costa. Presidente, come ha visto Tonelli? Fortissimo, è una sorpresa. Bravo, bravo Tonelli, come è scelto da spaventato io. È calciatore vero, perché come è scelto da spaventato io. Io non mi cazzo da runic dei dito io. È finito?